caldo eccezionale tre giorni in allerta rossa sosta selvaggia sottomonte arrivano le multe l'ex sindaco di new york de blasio ospite a pesaro via alle celebrazioni per gli 800 anni del beato sante a pesaro si rilancia il ciclismo giovanile con pisaurum buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione di rossini news una settimana quella che inizia oggi lunedì 17 luglio contrassegnata da un caldo eccezionale che per almeno tre giorni metterà la nostra regione in allerta rossa come messo dall'odierno bollettino della protezione civile regionale un bollettino che d'arancione diventa dunque al massimo grado di allerta con 40 gradi percepiti e un'ondata crescente che avrà il suo picco mercoledì a causa dell'anticiclone africano che sta avvolgendo l'intero paese un bollettino rosso che mette anche in massimo stato d'allerta le strutture sanitarie della regione caldo record che nel weekend fa rima anche con assalto alle spiagge una situazione che crea sistematicamente un caos nella sosta durante la domenica in zona levante ma soprattutto in zona sottomonte come ci confermano le immagini inviateci da alcuni nostri telespettatori che ringraziamo scutere auto che in alcuni casi hanno violato spazi come quelli riservati ad ambulanze oppure ostruito accessi agli spazi stradali che costeggiano la ferrovia i vigili urbani sono stati chiamati in causa con alcune rimozioni e con l'elevazione di una ventina di contravvenzioni il tema della sosta selvaggia sottomonte sarebbe però aggirabile se si utilizzassero le navette gratuite che partono dal parcheggio scambiatore del san decenzio un parcheggio ora ancora più ampio visto che nel weekend sono stati inaugurati altri 123 posti auto siamo arrivati alla conclusione del di un intervento di un intervento lungo complesso partito diversi anni fa che porta a pesero inaugurare il terzo grande parcheggio gratuito nel giro di pochi mesi prima villa marina in vera trieste poi il nuovo parcheggio bianco accanto alla stazione del treno importantissimo per i pendolari e qua invece un parcheggio nuovo di 227 stalli 19 per i motorini a disposizione di tutti di tutti coloro che vivono il centro storico san decenzio quando è stato inaugurato tempo fa era un parcheggio praticamente sempre libero oggi invece inizia già a essere tanto utilizzato e qua invece si dà respiro sia in particolar modo nelle giornate del mercato cittadino ma in realtà dà anche più respiro durante le giornate sia estive per i turisti e pesaresi ma diciamo per tutto l'anno un parcheggio un'infrastruttura nuova importante qui va ricordato c'erano inerti c'era ghiaia c'era polvere oggi c'è un parcheggio con tanto verde con delle alberature che proseguiranno poi anche nella parte già inaugurata ottobre con la realizzazione di nuove aiuole e nuove piantumazioni che verrà fatta a settembre ottobre quando anche le condizioni metto saranno migliori per questo tipo di piantumazioni questa inaugurazione suggera un po' un esercizio che abbiamo fatto rispetto alla realizzazione di un principio di solidarietà quindi di collaborazione pubblico privato sicuramente ci sentiamo in parte artefici di questo della realizzazione di questo progetto e questo progetto prevedeva comunque sia che noi i quali proprietari dell'azienda di FME appunto che lavorava in questo territorio in quest'area dovessimo metterla a disposizione diciamo a completamento dell'edificio che abbiamo su sui via pertini di fatto abbiamo lasciato spazio proprio per dare possibilità alla città di disufforire di queste attività ben prima dell'ultimazione dei lavori di lavori di là quindi se vuoi sacrificando la nostra attività qua ma l'abbiamo fatto per una per una buona causa da buoni cittadini ci piaceva insomma dare anche il nostro contributo attorno a mezzogiorno di ieri si è definitivamente ripristinata l'erogazione dell'acqua a Pesero in particolare nel quartiere più critico quello di Villa San Martino dopo che fra sabato e domenica i rubinetti erano rimasti a secco a causa di un importante guasto alle condutture idriche in via Ponchielli è stata una giornata di maxilavoro per gli operatori di Marche Multiservizi che però già sabato pomeriggio avevano riportato l'acqua corrente in buona parte delle residenze in serata c'è stata però un'ulteriore rottura in via Pergolesi sempre a Villa San Martino che ha chiamato ad un secondo intervento riparativo operatori di Marche Multiservizi che ieri sera sono anche intervenuti congiuntamente ai vigili del fuoco per una sospetta fuga di gas all'interno di un complesso residenziale di Viale Trieste ma che si è rivelato un guasto non pericoloso un altro intervento dei vigili del fuoco è quello che questo pomeriggio ha portato a segnalare un incendio per materiale di scarto estratto dalla lavorazione e lucidatura dell'alluminio che si trovava all'interno di un cassone scarrabile un incendio avvenuto a Sasso Corvaro in via provinciale dove la squadra dei vigili del fuoco di Macerata Feltria ha sedato le fiamme con liquido schiumogeno non si segnalano persone coinvolte nell'incendio e cambiamo argomento in occasione della conclusione del festival della guida all'Only Planet Ulisse Fest ha fatto tappa ieri a Pesaro anche l'ex sindaco di New York Bill de Blasio che nell'occasione si è intrattenuto col primo cittadino pesarese Matteo Ricci su diverse tematiche relative al ruolo della città e delle amministrazioni nella gestione del cambiamento climatico si è chiuso ieri l'Ulisse Fest il festival della guida di viaggi l'Only Planet che per il secondo anno si è tenuto a Pesaro con un centinaio di appuntamenti e ospiti legati al mondo del viaggio e a riflessioni di respiro internazionale domenica di chiusura in cui è stato presente a Pesaro anche Bill de Blasio ex sindaco di New York che nel cortile dei musei civici ha intrattenuto una chiacchierata col sindaco di Pesaro Matteo Ricci su tematiche relative all'amministrazione sostenibile ed ecologica prendendo a riferimento i risultati di spicco raggiunti da una megalopoli complessa come quella new yorkese. Ricci ha cavalcato il progetto dell'arretramento della ferrovia riscuotendo il plauso di de Blasio su una deviazione infrastrutturale all'insegna del green già sperimentata da New York. Penso che entrambi gli esempi ovvero quello relativo a New York e quello relativo a Pesaro i lavori che si stanno facendo in queste due città siano la prova esistente del fatto che il cambiamento è possibile che possiamo cambiare finalmente il nostro stile di vita. Le persone si allineranno quando vedranno che c'è questa volontà di progredire. Le persone adesso, i cittadini sono affamati di cambiamento. Per de Blasio la visita a Pesaro non sarà l'ultima, c'è già l'idea di tornarci in occasione del 2024, anno della capitale della cultura. Sono pronto, congratulazioni a Pesaro, un gran onore per questa città, sarebbe un gran piacere vedere tutte le feste, tutti gli eventi per quest'anno meraviglioso. Nel prossimo fine settimana compierà 800 anni una delle istituzioni religiose più importanti della nostra provincia di Pesaro Orbino. Parliamo del santuario del Beato Sante. 1223-2023. Da otto secoli fratti i minori francescani sono legati al santuario del Beato Sante di Monbaroccio, primo convento fondato dagli stessi religiosi nella diocesi di Pesaro. Anima e corpo del cattolicesimo, immerso in un luogo profondo di spiritualità, diventato meta di pellegrinaggi religiosi da ogni angolo della terra. A 800 anni di distanza, fede e storia aprono le porte a tre giorni di celebrazioni, 20, 22 e 23 di luglio. Da dove tutto ha avuto origine, Santa Maria di Scotaneto, 1223, quando San Francesco diete la possibilità ai fratti francescani di edificare la prima chiesetta, che allora fu chiesetta, ma che, come dicevo prima, mi sono sempre chiesto cosa poteva essere Monbaroccio se non ci fossero stati fratti francescani. E quindi da lì, poi 200 anni dopo, venne il mio comune, che ho l'onore di rappresentare. Quindi domenica, sabato e domenica, saranno due giorni importanti di eventi, di celebrazioni, di ritti di fede, ma anche di ricordo di quella che era la storia, tramite gli antichi mestieri, per grandi e piccini, con anche gli arcieri. Sì, saranno giorni veramente importanti che celebreranno con il degno modo quello che è il ringraziamento che dobbiamo ai fratti francescani e all'insediamento di essi nel nostro territorio. Otto secoli di presenza dei fratti francescani minori, li stiamo festeggiando, abbiamo già alcuni eventi fatti, il primo evento importante è il 20, con la benedizione dei mezzi agricoli. Quindi invitiamo tutti gli agricoltori della provincia, chi vuole venire a salire al santuario, perché ci sarà prima di tutto anche un bel dialogo con il direttore della banca, con un frate che è laureato in economia, con il vescovo. Invece il 22 e il 23 si partirà da un concerto all'alba alle 5.30 del mattino, poi ci saranno esposizioni di artigianato di un tempo, quindi la cartiera di Fabriano, il fabbro, chi lavora al legno, però cose del it. Poi all'interno del chiostro ci sarà una mostra di ricamo, mostra di oggetti antichi di un tempo, quindi tutto curato nei minimi particolari. Il clou dell'evento sarà domenica alle ore 10.15 con la messa solenne che verrà proprio celebrata, perché il punto dell'evento è la religione, quindi la fede e la chiesa cattolica. 1.223, 2.023, 800 anni, le posso chiedere che cos'è cambiato nel valore, nelle abitudini di chi appunto frequenta quel luogo magico, santo? Anzitutto non è un ottavo centenario di rievocazione storica, di ritorno al passato, ma uno sguardo dal passato proiettato nel futuro. Ci pensavo proprio stamane in questo. E poi un profondo senso di gratitudine da parte di tutti i frati della comunità del Beato Sante. Da allora una catena ininterrotta di confratelli, di frati francescani, frati minori, figli di San Francesco d'Assisi che in otto anni sono stati lì e hanno profuso il profumo del Vangelo nel Monte Feltro. Ecco, attualmente che realtà è la vostra? È una comunità viva, siamo cinque frati minori che viviamo lì nel santuario del Beato Sante e offriamo servizio liturgico, servizio pastorale a tante persone, a tanti devoti che vengono dal pisarese, dal fanese, ma anche da fuori per trovare rifugio spirituale. E nonostante le conquiste della tecnica, della scienza, nonostante il benessere diffuso dell'epoca moderna, vediamo che l'uomo è in costante ricerca della felicità. Ecco, se io penso a Francesco d'Assisi e penso ai suoi frati, penso a delle persone felici, la cui felicità era non legata a un possesso di qualcosa, anzi, vivevano nella povertà più assoluta, quindi uno stile di vita essenziale, sobrio, la felicità di imitare Gesù e di farlo conoscere, e amare come loro lo avevano conosciuto e amato a tutti coloro che incontravano. Durante le celebrazioni il mio reggimento parteciperà anche con un picchetto in armi. Siamo stati ben felici di accettare questa proposta di co-organizzatori che ci ha fatto il Cavaliere Bartoccetti, commissario dell'evento, e quindi siamo felici di contribuire in tutti i modi possibili. Alla Cascina delle Rose di Sant'Ippolito si è tenuta venerdì l'assemblea ordinaria dei soci di Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese di Pesaro e Urbino. Vediamo quanto è emerso in questa assemblea nel servizio realizzato da Marco Cadedu, ricordandovi che potrete ulteriormente approfondire questa tematica nello speciale che Rossini TV trasmetterà domani, martedì 18 luglio, alle ore 21.20. Alla Cascina delle Rose si è appena conclusa l'assemblea dei soci della Confapi, la confederazione piccole e medie imprese. Siamo con il presidente Dante Damiani, oggi padrone di casa, che lancia tra l'altro alla fine di questa assemblea il momento numero due, ovvero un incontro con una personalità di spicco, ovvero Enzo Maria Lefevre Cervini. Siamo stati qui oggi per ospiti della Cascina delle Rose per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2022. Questa giornata è suddivisa in tre fasi ben distinte e precise. Questa fase iniziale che ha riguardato l'approvazione del bilancio, alla quale successiva sarà l'incontro con il dottor Enzo Maria Lefevre Cervini, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ariano Olivetti, docente presso l'Università di Buenos Aires per la governance del digitale. È veramente una delle persone più importanti per quanto concerne la tematica che riguarda praticamente la digitalizzazione e l'utilizzo e l'uso dell'intelligenza artificiale e la sua normativa a livello europeo e mondiale. Ecco professore, in fase di presentazione il presidente della Confapi ha affermato che lei ha visitato più di 160 paesi. Ci faccia un podio, primo, secondo e terzo, oro, argento e bronzo dei primi tre paesi che hanno assorbito maggiormente e con maggiore celerità questo processo di digitalizzazione. Tra i più importanti sono sicuramente Singapore, è uno dei paesi città-stato più avanzata al mondo nel processo di digitalizzazione. In Europa l'Estonia rileva essere uno dei grandi paesi, sebbene molto piccolo, che hanno portato avanti un processo di digitalizzazione ma molto legato al fatto che è una popolazione giovane, molto piccola e via dicendo. Altri paesi molto importanti in questo settore è sicuramente la Corea del Sud che ha portato avanti un processo radicale di trasformazione. e poi abbiamo i soliti noti rispetto ad alcune fasi che sono il Giappone per esempio per quanto riguarda il sistema di trasporti, Israele per quanto riguarda l'innovazione e i sistemi di difesa. Però detto questo io dico sempre che l'Italia non è tra gli ultimi, anzi ha moltissime peculiarità che dimostrano essere fondamentali nell'avanzamento dei servizi, ha delle imprese che si occupano di agribusiness estremamente importanti, che fanno apparo con Israele ma che aiutano tantissimo il nostro mondo imprenditoriale agricolo e abbiamo anche dei sistemi tecnologici che aiutano le imprese poi a fare sistema che sono incredibili e unici nel mondo. A Pesaro è stato un weekend con due lutti per altrettante figure cittadine molto stimate. È morta all'età di 99 anni Suor Clelia Selvi, un punto di riferimento per generazioni di pesaresi come anima edecutiva delle piccole ancelle del Sacro Cuore. Suor Clelia è stata per decenni maestra delle scuole elementari dell'istituzione di via a Mendola. Oggi si sono tenuti i funerali ad Arezzo. E invece si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Cristo Re i funerali di Brunello Bedosti, storico direttore dell'osservatorio Valerio, nonché punto di riferimento per le rilevazioni meteorologiche sul territorio. Renato Claudio Minardi è stato eletto ieri come nuovo segretario del Partito Democratico di Fano. Minardi, già vicepresidente del Consiglio regionale, è stato eletto con 27 voti a favore e 9 astenuti appartenenti a Futuro Democratico. Minardi succede a Tommaso della Dora, prematuramente scomparso lo scorso mese di maggio. Il Comune di Cartoceto ha annunciato l'arrivo del contributo del Ministero dell'Interno destinato a due investimenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici del territorio. Il primo intervento riguarda il Borgo Storico, il cui finanziamento ammonta a 69 mila euro. Con altri 96 mila euro si agirà invece sulla messa in sicurezza di un tratto del Rio Secco a Lucrezia. E anche quest'anno invece la Fano dei Cesare ha coinvolto centinaia di fanesi che divisi nelle quattro fazioni di cinghiale Delfino, Lupo e Volpe hanno animato le vie del centro prima e l'anello del Pincio poi. Ieri il Gran Finale che ha visto premiato il miglior personaggio alla fazione della Volpe, poi la pompa magna al lupo, mentre il cinghiale è stato premiato per il miglior Ludo Fortune. Poi spazio alla Corsa delle Bighe, vinta dal Delfino della Uriga Faustus che ha preceduto Iosef e la Biga della Volpe. A Lucia Lucarelli del Delfino l'onore di alzare al cielo il trofeo consegnato dal sindaco Massimo Seri. E parliamo di cultura. Mercoledì 19 luglio con il concerto di Maria Antonietta prende il via al Parco Miralfiore di Pesaro, mira il teatro d'estate con la prima di 15 serate in teatro e musica per la quarta rassegna che si tiene nell'anfiteatro del parco. Cantautrice eclettica, Maria Antonietta è una delle voci più amate dell'alternative italiano e giunge a Pesaro, sua città natale, con La Tigre, assenza dal nome del nuovo album. Altra musica nell'estate pesarese, quella dei concerti alla Palla di Pomodoro, concerti che da questo giovedì e per tre giovedì sera saranno sempre all'insegna del grande jazz. Un focus specifico sul jazz con l'Aldemaro Moltedo Jazz Band che è una presenza ormai storica degli ultimi decenni nella nostra città. In questo caso con una vera e propria mini rassegna di tre giovedì del 20-27 luglio a 3 agosto quindi l'opportunità per il pubblico di ascoltare tra i migliori musicisti jazz del nostro paese che compongono questa grande formazione e attraverso un viaggio nella storia del jazz, del jazz americano, del jazz europeo, insomma quello anche più conosciuto, forse anche più arricchiabile, più adatto a un contesto come quello di Piazzale della Libertà. Quindi un altro momento che si aggiunge alla corsa verso la capitale italiana della cultura da parte di Pesaro, città della musica UNESCO. I componenti, a mio modesto avviso e senza regalare niente a nessuno, sono i migliori musicisti d'Italia in assoluto. Fabio Pedretti sta tornando adesso da un tour fatto in Austria, è considerato uno tra i migliori saxofonisti d'Italia sicuramente. Massimo Murganti, e c'è al posto di Oncini che purtroppo ha avuto un intervento molto serio, è stato sostituito da Catria, ha un ragazzo ventenne, un portento anche lui, veramente una persona fantastica e di grande qualità. Poi c'è Ghetti Paolo, contrabassista notissimo, c'è Massimo Manzi, the biggest, il più grande, anche di effetto perché è 180 kg, però è un grande veramente, è considerato un genio, guarda, ce lo invidiano tutti. E poi c'è questo modesto pianista che sarei io, io sono il più piccolo, ma il resto sono veramente dei giganti della musica italiana. Poi c'è la Paola Lorenzi che ha cantato con Conte, ha cantato con Gaslini, ha cantato con tutti i migliori jazzisti italiani. E poi c'è la figlia di Ghetti. Anche l'anno scorso gli abbiamo visti alcuni concerti e sono stati sicuramente di livello internazionale, questo sapore evergreen di pezzi italiani e internazionali danno alla palla di Comodoro sicuramente un bel ambiente musicale live e di sicura qualità. Ed ora lo sport. Il grande ciclismo giovanile è tornato ad animare il cuore di Villa Fastigi con il secondo trofeo Pisaurum Young Riders che si è tenuto proprio nella giornata di ieri. Vediamo come è andata ricordandovi anche lo speciale dedicato a questo appuntamento sportivo che andrà in onda giovedì 20 luglio alle ore 20. Abbiamo avuto tanti partecipanti, 172 iscritti, con ben 18 società provenienti dalle Marche, dall'Abruzzo e anche dall'Emilia Romagna. Una macchina organizzativa imponente, tanta tanta gente a dare mano, volontari e questo non è scontato perché un giorno come oggi con queste temperature davvero si fa sentire. Però un grazie a tutti perché è stata una bella manifestazione, l'abbiamo voluta riportare al centro del quartiere di Villa Fastigi con il supporto comunque anche alla circoscrizione e di tutti gli sponsor, soprattutto del gruppo BS che ci permette di essere qua noi come Pisaurum, quindi un ringraziamento speciale anche a Roberto Selci che ha voluto, ha creduto in noi e sta credendo ancora in noi. Per anni è mancato una gara di bicicletta, una gara di ciclismo all'interno del paese e siamo veramente molto contenti che sia tornata una manifestazione così, una manifestazione bellissima, molto partecipata e siamo contenti che ancora una volta Villa Fastigi possa essere il tracciato per una competizione sportiva di alto livello. La società è stata costituita due anni fa con lo scopo principale di promuovere il ciclismo giovanile. Il nostro intento per il momento ci siamo focalizzati sui giovanissimi, i ragazzi, i bambini ancora perché vanno da 6 a 12 anni e vogliamo cercare di riportare il ciclismo giovanile qui nella zona del Pesarese perché negli anni è un po' sparito insomma col tempo. Adesso stiamo cercando di promuovere il più possibile. Ricordo che noi organizziamo cinque gare durante la stagione di cui tre nel territorio del comune di Pesaro e due in provincia. Questa è l'ultima gara del comune di Pesaro, poi ne avremo un'altra a Montelabate e è comunque una cosa molto importante. Abbiamo cercato di riportare il ciclismo giovanile a Pesaro, ci stiamo riuscendo, abbiamo diversi iscritti nella Pisaurum e abbiamo comunque anche la rappresentanza di Fano, una società molto importante. Cercheremo nel 2024 di consolidare tutto, di riproporci con altre gare e cercheremo di introdurre addirittura questa è una new entry, forse avremo anche un'altra gara nel quartiere di Santa Veneranda a Celletta però ancora è tutto da organizzare, questa è solamente una chicca così vedremo se riusciamo a concretizzare anche quella. E concludiamo il telegiornale con un'ultima notizia di sport arrivata proprio questo pomeriggio, ovvero quella del terzo colpo di mercato straniero per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con Scott Bamford, prima opzione nella lista delle combo guard seguite dal club biancorosso. Classe 1989 statunitense con cittadinanza kossovara, è giocatore di esperienza e conosce già il massimo campionato italiano dopo l'esperienza a Sassari nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019. Nell'ultima stagione Bamford ha giocato al Breogan, squadra spagnola che ha partecipato anche alla FIBA Champions League. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News e prima di salutarci vi ricordiamo come sempre la nostra prima serata che vi porta a vedere le belle immagini di Isola del Piano in occasione della riproposizione delle puntate di Green Tour, un tour nel verde della nostra provincia che va in onda tutti i lunedì alle 21.20 come detto puntata dedicata a Isola del Piano che potrete anche vedere in replica giovedì alle 15.30 e domenica alle 12.00. E poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che va sempre in onda in diretta dal lunedì al sabato a partire dalle ore 7.20. E infine vi ricordo l'app gratuita di Rossini TV uno strumento che vi invitiamo a scaricare per avere sempre a portata di clic la possibilità di consultazione delle notizie del nostro palinsesto o semplicemente anche per inviare segnalazioni alla nostra redazione. Ed è davvero tutto per questo lunedì 17 luglio si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti!